Stiamo continuando la nostra attività di crescita e di espansione del nostro istituto di credito, la banca di credito cooperativo di Fisciano, in questo momento stiamo facendo una serie di attività in favore delle categorie più deboli che sono i pensionati, ai quali abbiamo dedicato un conto, il conto pensioni, dove ci sono una serie di facilitazioni, per esempio è quello di fare per 62 operazioni, è gratuito, ci sono una serie di altre attività dal pagamento delle utenze, quindi per certi aspetti abbiamo anticipato un po' quello che era stato il decreto Mondi rispetto a questa categoria e stiamo quindi allargando anche rispetto all'installazione di Bancomat, perché poi questa circolazione del contante che è stata ridotta purtroppo ha creato una serie di disagi a un po' a tutti quelli che hanno un rapporto con la banca, per cui noi sul territorio abbiamo installato una serie di Bancomat e nel mese di aprile ci sarà proprio una serie di inaugurazioni di questi ATM, un po' in tutte le frazioni del comune di Fisciano, ma in generale in tutta la valle dell'Irno, nel mese di luglio, il 4 luglio apriremo un nuovo sportello bancario a Montone Inveriore e quindi ci sta questa rivoluzione, questa crescita un po' per dare risposte a tutti i territori e quindi anche a questa parte bassa della provincia di Avellino e quindi questo sportello a Montone Inveriore ha proprio questo significato. Da quest'anno abbiamo vinto una serie di gare di appalto per quanto riguarda le tesorerie di alcuni comuni della valle dell'Irno, anche in questo settore ci stiamo organizzando per continuare a dare delle risposte anche a questa categoria che è quella dei dipendenti pubblici. quest'anno chiuderemo il bilancio del 2011 inutile con un utile significativo dato il momento particolare della economia e quindi questo ci aiuta a continuare con questa crescita perché alla fine adesso stiamo facendo una politica anche per quanto riguarda i giovani, abbiamo costituito il club Giovani Soci per favorire anche questo ricambio generazionale e quindi è in continua evoluzione l'attività della nostra banca, noi ci auguriamo di poter continuare su questa strada e che la clientela ci continui ad essere ancora più vicina in questo particolare momento dell'economia mondiale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.